Buonasera a tutti e grazie per questo invito. Mi è capitato già altre volte di essere qui in questa sala e con questo pubblico a presentare il salo con Cinello di Giulio Giorello, quindi oggi non vi ripeterò in presentazioni, in singhe, non vi sponderò sui meriti che questi due intellettuali italiani hanno, perché ormai sono patrimonio di tutti, conoscete molto bene, chi sono e le loro opere. Vorrei qui spendere però due parole, lasciando il prima possibile la parola ai due autori di questo libro, perché so che in genere quando ci sono due personaggi così eminenti, scalpitate per sentire la loro viva voce, io ve la concederò molto presto. Però alcune riflessioni le voglio fare proprio su quel prologo di cui la Pesce ha riportato alcune parole, proprio nel momento in cui questi due autori si sono presentati. È una sorta di escusazione. Uno un filosofo della scienza con trascorsi di matematico, l'altro è un fisico, un biologo con trascorsi di fisico, ma forse ancora più fisico oggi di quanto non fosse prima, perché ormai è nel suo DNA di essere forse più fisicalista che fisico. In ogni caso, due autori che in qualche maniera si scusano per non essere degli specialisti e che affrontano letture Giulio Giorello di Antonio e Cleopatra e Dado Boncinelli di Amleto da invasori di campo sostanzialmente, con degli sguardi indiscretti, da guaglieristi, da persone che non sono degli addetti ai lavori. Ebbene, quando due personaggi del loro calibro dicono una cosa così semplice e banale, bisogna sospettare, perché dietro c'è sicuramente qualcosa. E io credo che questo libro sia un libro assai più importante di quanto questa modestia ostentata nel prologo voglia far credere, perché non è un cimento, un diletto di due scienziati e di due figure che si sono cimentate anche con la filosofia e con la storia delle idee, eccetera, in un campo che non è il loro. C'è qualche cosa di più qui dentro che vorrei brevemente sottoporre se è un'interpretazione corretta ai due autori. Ricordando a tutti voi, ma vedo che più o meno siamo molti coetanei, quindi molti di voi avranno avuto le stesse esperienze che abbiamo avuto noi e non è che le nuove generazioni abbiano delle esperienze migliori delle nostre da questo punto di vista. Noi siamo abituati a vivere in una cultura dove ci sono degli steccati e dei confini fra le discipline praticamente impalicanti. E anche i nostri ordinamenti universitari, mai corretti con tutte le leggi che si sono susseguite anche nel secondo dopoguerra, ci hanno mai dato la sensazione che la cultura fosse una sola. perché sempre tutti dobbiamo obbedire a dei canoni, a una precettistica, a un qualche cosa che in qualche maniera ci obbliga a essere o un critico letterario, o un filosofo, o un scienziato, eccetera, eccetera. Vi faccio il caso di Gilberto Sacerdoti, che è un autore che sicuramente è caro a Giulio Giorello perché ha scritto due libri veramente eccezionali su Shakespeare, il teatro dell'Isabetiano in genere e la rivoluzione scientifica. Bene, Gilberto Sacerdoti ha vinto la carta da molto tanti, era un filosofo a Bologna e lui si sentiva ripetere la sentenza che molti di noi, ahimè, abbiamo anche pronunciato. Cioè sì, bravo, molto bravo, ma non specifico. Non è uno storico della letteratura inglese. È qualche cosa di diverso. Guardate che questo se ne può parlare anche anecdoticamente di queste cose e si possono anche fare delle battute. Ve ne voglio citare un'altra di cose molto recenti. Un nostro concittadino fiorentino ha scritto recentemente, molti di voi lo sanno, un libro sull'assassinio di Giovanni Gentile. Questo signore è uno psicologo, è uno storico della psicologia ed è stato insegnato del premio Acquistoria. Apri di scena. Gli storici sono insorti perché uno psicologo, e guardate non ce l'ho con gli storici perché i filosofi avrebbero fatto di peggio, e sono insorti e per rivoluzionare all'ultimo momento hanno dato un exequo a uno storico. Perché uno psicologo, insomma, non poteva andare a prendersi un premio di diritto spetta agli storici. qualsiasi sia l'oggetto della ricerca e dello studio di questa cosa. Ecco, Dato Boncinelli e Giulio Gioreggio, approfittando della loro impulverabilità, poveri che sono anche fuori dall'università, uno in procinto deve essere l'un altro, si possono permettere queste scorribande. Ma che, come vi dicevo prima, non sono delle scorribande. Sono dei messaggi molto chiari alla nostra cultura. Noi tutti ricordiamo che c'è stato un momento, anche della mia formazione, negli anni 70, c'era una guerra all'interno della critica letteraria, no? Le scuole formaliste, strutturaliste, contro, oppure anche alleati degli psicanalisti, ma poi c'erano le scuole fenomenologiche che combattevano il vecchio storicismo, il vecchio crocianesimo, nella critica letteraria, eccetera. Piano piano ci siamo allontanati da quel tipo di patrocomunimatie. Però, con che cosa siamo rimasti? Siamo rimasti ugualmente con i settori disciplinari chiusi, con degli orti conclusi che non comunicano. La critica letteraria è critica letteraria. Quando, in giro per il mondo, soprattutto nel mondo anglosassone, che è da sempre più aperto di noi, si fanno cose di questo genere. Si legge la letteratura da filosofi, da scienziati, si legge la filosofia da letterati. E perché, di fatto, quello che è uno degli imperativi, che ormai credo siano condivisi da tutti, è che la cultura è un patrimonio universale. E la cultura parla di se stessa con i mezzi che ha. Lo sapeva Aristotele. Abbiamo dovuto dividere la cultura e frammentarla per dimenticarsi. Da una parte, uno degli assunti fondamentali di Aristotele, è che conoscenza e piacere erano un tutt'uno. Anzi, la conoscenza era il massimo del piacere. Portava all'eudaimonia. E dall'altra parte, che la conoscenza era una sola. E che in qualche modo bisognava avere il più possibile di cultura, oppure collaborare per arrivare a conoscere il più possibile anche un testo letterato. Questo ci hanno regalato Giulio Giorello e Taro Bruncinelli. Di fare delle letture dove, emerge soprattutto nel dialogo finale fra di loro, si prendono delle occasioni per dibattere filosoficamente, scientificamente, per dare un contributo. Ma quello stesso contributo che anche il Gilberto Sacerdoti aveva dato da storico delle idee, da persona che conosceva bene Bruno e Bruno in Inghilterra, eccetera, e arrivava a capire molto profondamente i testi di Shakespeare, ancora di più di quanto non potesse fare un filologo o un critico letterario che si limitava e si concentrava alla forma, ma anche contro tanti storicisti di vecchio stampo. Quindi questo è il messaggio, secondo me, che viene da questo libro. Un messaggio assolutamente positivo. La cultura è una. e in tutte le loro opere Giulio Giorello, che è un vagheggiatore della Repubblica dell'Illuminismo, che si è sempre cimentato anche in uno stile filosofico che ricorda molto l'Illuminismo, che è stata l'unica epoca della nostra storia, della cultura occidentale, che somiglia un po' a quella che vagheggiano i nostri due autori. Si parla in modo da non costringerci a un cerco, in modo da ibridare le specializzazioni, in modo da scambiarsi delle idee che sono l'unica fonte di creatività e dignità. E questo testo, infatti, ci porta alla fine a riflettere in una maniera diversa sul teatro, per esempio. Il tema centrale di questo dialogo e di queste due riflessioni è il teatro, quello che Giorello chiama il teatro della mente, quello che Boncinelli ci racconta anche attraverso la storia evolutiva dell'umanità, perché ci fa capire che cosa ha voluto dire il simbolo, la rappresentazione nella storia della mente umana. E si parla, come diceva la signora Pesce, di vita, di morte, di suicidio, di vita degna di essere vissuta. Abbiamo avuto recentemente uno scambio su questo tema allo stenzio con Dado Boncinelli, di travestimento, di commistione, di scambio di genere. Sono tutti temi che ci interessano per la contemporaneità, ma che questi due autori stanno attenti a leggere il testo, senza prevaricare il testo, e però facendo parlare il testo alla nostra contemporaneità. Grandi pregi, dunque, grande ammirazione, anche un pizzico di invidia, perché tante cose mi piacerebbe sapere scrivere anche, ne sanno scrivere Dado Boncinelli e Giulio Giorello in maniera ammirata, che sono degli autentici intrattenitori e quindi questo libro è consigliato praticamente a tutti e ne trarrete grandi vantaggi. Quello che posso dire, semplicemente proprio per parlare con gli autori, che da una parte ho apprezzato, da una parte mi è sembrato un piccolissimo limite di questo libro, è che in appendice c'è una bibliografia, una bibliografia con delle scelte molto accurate e attente, soprattutto per le traduzioni, perché attenzione, Shakespeare non è fruibile nello stesso modo in qualsiasi traduzione, bisogna stare molto attenti alle indicazioni che ci danno i due autori e le scelte delle traduzioni sono tutte molto accorte e assolutamente convivisibili. Anche la bibliografia è una bibliografia di completamento che vi aiuterà a completare la lettura di queste due opere. Ecco, quello che mi ha lievemente meravigliato è che in questa bibliografia non c'è il coraggio della scelta audace, la bibliografia è un po' scolastica, sinceramente, perché di fatto su Shakespeare ce ne sono state tante di opere che sono degne di essere lette proprio, se ho interpretato bene, nell'intenzione, nella direzione in cui lo hanno letto questi nostri due autori. Ne cito soltanto due, anche per provocare eventualmente un dibattito. C'è un filosofo di Harvard che si chiama Stanley Kabel che ha raccolto una serie di saggi sulle tragedie di Shakespeare in un libro che in italiano è intitolato Il rifugio del sapere, pubblicato da Inaudi, ed è un libro sullo scetticismo nel teatro di Shakespeare ed è anche questo un libro che avverte Stanley Kabel è un noto importante filosofo harvardiano che viene dal trascendentalismo americano ma anche dal pragmatismo americano e che avverte di non voler leggere Shakespeare applicando qualche teoria sua oppure illustrando delle idee che lui ha vuole leggere Shakespeare cercando di trovare quello che in Shakespeare c'è e ce lo dicono i nostri due autori c'è filosofia in Shakespeare perché tutta l'opera di Shakespeare è pervasa da idee filosofiche da idee scientifiche perché poi filosofia e scienza ce lo dicono i nostri autori e nella fine del Cinquecento e nel Seicento c'è la filosofia naturale e questa è la scienza la parola scienza nasce negli anni 30 dell'Ottocento lo scienziato per la prima volta si parla di scienziato negli anni 30 dell'Ottocento e William Yuval il primo a pronunciare questa parola c'è tutto dentro Shakespeare e quindi è assolutamente legittimo che ci siano delle letture di questo genere dell'opera di Shakespeare poi voglio permettermi un suggerimento io sono convinto che agli autori non è spuggito però voglio anche confessare una mia passione sono un lettore accadito di John Updike un grande scrittore americano un seguito romantico degli scrittori ahimè scompazzo recentemente John Updike ha scritto una narrativa un romanzo in inglese intitolato Gertrude and Claudius in italiano è stato mi pare intitolato una storia in Danimarca che è una riscrittura degli antefatti di Hamlet ed è al centro la figura di Gertrude Giorello ci dice cercavamo una figura femminile per poter parlare far parlare Shakespeare alla nostra contemporaneità non l'abbiamo trovata nell'Amleto l'abbiamo cercata in Antonio e Cleopatra con delle incursioni mirabili nella storia che sta dietro questa vicenda di Antonio e Cleopatra che non è soltanto brutale ma c'è tanto altro e non l'hanno trovata nell'Amleto ecco è bello vedere che un grande scrittore come John Updike questa figura di donna l'ha trovata nell'Amleto l'ha inventata l'ha riscritta la storia di Rorick e Gertrude è veramente secondo me una delle delle riletture e riscritture più mirabili della letteratura contemporanea stringo e chiudo perché ho già ne ho abbastanza grazie